Oggi facciamo il gâteau, quindi ci vogliono in dosi uguali 4 uova, 4 cucchiai di zucchero e la farina, 4 cucchiai di farina, che però abbiamo diviso fra 2 cucchiai di farina e 2 cucchiai di fegola. Abbiamo diviso gli uovi e i tuorli dagli albumi, quindi ora montiamo gli albumi. Nel frattempo che montano gli albumi noi uniamo lo zucchero e la farina. Aggiungiamo un cucchiaino di lievito e poi lentamente aggiungiamo gli albumi. Dal basso verso l'albumi, come deve venire quando abbiamo incorporato tutto l'albumi, in questo modo qui, liquido in questo modo qui. Quindi ora andiamo a stenderlo sulla teglia e lo inforneremo a 180 gradi, fino a che la superficie non diventerà dorata. Abbiamo tolto la nostra torta tra il forno, quindi ora mettiamo e la mettiamo sul canovaccio perché abbiamo precedentemente in questo modo. E ora andiamo a bagnare la superficie con acqua e zucchero e un pochino di ricorre, il cuore, qualsiasi mo' imbiliate. Bene, ora che è completamente bagnato, prendiamo le nostre creme. creme. Una è la crema pasticcera e una crema pasticcera e una crema pasticcera per il cioccolato. E le mettiamo per metà da una parte e metà dall'altra. Ora sistemiamo questo e ora delicatamente lo giriamo. Bene, quindi ora è fatto. A questo punto si può o spolverizzare con zucchero a velo o con cacao oppure anche faccio una passata di panna, non panna. Grazie. Grazie.